Al di là di tutto, siccome noi abbiamo una Costituzione, dicono che sia la più bella del mondo, a me non piace, ma questo non significa niente, perché c'è, quindi va rispettata. Quindi è incostituzionale stabilire l'età massima per il voto, semmai c'è quella minima, ma quella minima ha un senso, perché la maturità si conquista. Un tempo erano 21 anni per votare, poi siamo scesi a 18 e lì posso anche capirlo, ma a 16, sinceramente, i 16 anni spesso, come risulta dalle statistiche, non sono in grado di decryptare un testo, un articolo di giornale. Quindi, mentre magari uno di 75, di 80, che ha letto il giornale tutta la vita, forse magari ce la fa meglio a capire la situazione.